Buonasera a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta, molto richiesta su Bitcoin. Allora, ho cambiato un po' prospettiva e ho allargato parecchio il grafico in modo da permetterci di vedere tutto ciò che è successo. Per cui, partiamo dalla fine. Bene, stiamo andando a chiudere un T più 3, ovvero un trimestrale inverso. Gli inversi partono dai massimi, si sviluppano verso il basso e poi salgono e chiudono su altri massimi. Esattamente il contrario dei cicli che partono dai minimi, provano a fare massimi e poi tornano verso il minimo. Dobbiamo dire che comunque ci sono stati tre raccordi estremamente fastidiosi che hanno dato adito a finte, per cui un paio di analisi non sono andate, come vi ricorderete bene, particolarmente bene, perché hanno fatto finta rialzo, ribasso. Questa fortunatamente invece è semplicemente andata come doveva andare, ma per il resto tutto bene. Perché? Perché nella procedente analisi segnalavo che si sarebbe andati sopra i 10.500 e che cosa è successo? Siamo andati ben sopra i 10.500 e abbiamo toccato oggi il massimo a 12.100 dollari di bitcoin. Ok? Per cui riprendiamo da questa scala. Primo, come vi ho segnalato all'epoca, con un Golden Cross si tende ad avere spinta a salire. Qui si stava scendendo, appena c'è stato il Golden Cross, finta a ribasso, rialzo, tanta lateralità. Per cui ho fatto meno analisi su bitcoin perché determinati periodi li trovo estremamente noiosi e andare a lavorare sui rettangoli di gun, i boxer di gun, in questi casi lo trovo noioso. Per cui perdonate se prima della scorsa analisi sono stato assente anche per i tanti impegni che ho. Io ho fatto meno analisi del solito su bitcoin, però si poteva notare tranquillamente che con minimi sempre decrescenti il trend non era sicuramente a rialzo. Si poteva notare a un certo punto, dopo questa finta di violazione a ribasso, che c'era un cono che si andava stringendo. Appena abbiamo avuto i primi volumi, siamo tornati da rimanere molto sotto la media mobile a 50 periodi, di questa rossa, sotto, 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 tentativo di sfondamento, sotto, 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 sfondamento, candela verde, candela verde, candela rossa, poi di nuovo candela verde con aggiornamento dei massimi, superamento non soltanto di questo swing, ma poi piano piano anche di questo, cosa succede? Boom! Siamo arrivati oltre ai 10.500 target che avevo dato. Per cui, mentre alcuni davano un ribasso, io continuavo a essere della solita idea che saremmo andati a ragionare i massimi perché l'inverso era già vincolato a ribasso, ovvero il bitcoin dovrà salire in termini di prezzi, ok? Qui in questo momento, per carità, per ridere ho messo una divergenza che per ora è ancora ribassista, ma che può effettivamente significare determinate cose, ovvero, se andiamo a guardare la nostra scala, il grafico che siete più abituati a vedere di bitcoin, ma che capite che se ritorno a mettere in questo modo non capite più nulla di che cosa c'è qua, ci dice una cosa molto semplice, ovvero che quando è partito il nostro TP5 inverso, che era positivo perché stava andando giù, stava sparando giù, e invece adesso è ampiamente negativo, è iniziato da questo massimo del 13 febbraio 2020 a punta 10.500. poi, come su tutti gli altri mercati, c'è stata una fase fortemente ribassista con questa candela folle di 3.200 dollari di perdita, ok? Successivamente ancora minimo, e poi è partito il nostro TP5 annuale. Il nostro TP5 annuale che ha fatto un primo TP3 trimestrale che si è chiuso qua, a 58 bar, e che successivamente è andato a farsi il suo secondo TP3 qua. qua bisogna capire ancora che cosa hanno voglia di fare, perché qui si fermerà il ciclo, ok? In questo caso, qua, da questi minimi, parte qualcos'altro effettivamente. Qui guardate, vi faccio vedere una cosa divertente. Se voi mettete come secondo TP3 qua, e vi fermate qua a 48 barre, ci può stare un TP3 corto, ok? Estremamente corto, fatto da raccordi, tutto quello che desiderate. Dopo che, peraltro, c'è stato un TP3 che invece, in quanto trimestrale, è stato decisamente più lungo e che è arrivato però a 59 barre. Notate che i tempi si stanno accorciando e si stanno avvicinando a quelli dell'SMP500, che però non ha fatto l'ultimo movimento. Però, se nella realtà, di fatti, da qui non è partito soltanto un secondo TP2, significa che un reale nuovo TP3, in realtà anche un secondo TP4, è partito da qua. Quindi io inizio a segnalarlo. TP4 uguale semestrale. E se parte un semestrale, deve sparare un po'. E come fa a sparare su? Ha bisogno, perlomeno, di un TP2 rialzista. Direi che da questo minimo a, per ora, questo minimo, che mi fa un 36 barre oltre alle 32 medie di durata, di salita, ecco, direi che dovrebbe essere abbastanza rialzista come TP2 ed eventualmente può arrivare a fare sette giorni ancora al massimo di discesa aggiungendo un T che si può vincolare soltanto al ribasso se andrà sotto questo minimo qua. Ok? Sotto, ovvero, i 10559. Per il resto, se qui, appunto, abbiamo avuto un primo TP2 inverso, un secondo TP2 inverso, che hanno fatto un primo TP3. Se qui abbiamo avuto un terzo che può aver fatto, può aver concluso un TP4, ovvero un semestrale. Perché abbiamo fatto già, questo è un trimestrale, e questo di inverso a 110 barre, tranquillamente è un semestrale. Ok? Esattamente come continuo a raccontare da parecchio tempo da quando vedo tutta questa forza di risalita, la tendenza continua ad essere rialzo. E come vi dicevo, da tante analisi, che saremmo tornati sopra i 10500 dollari, e ci siamo poi tornati, abbiamo fatto fatica, lateralità e tutto quello che volete, ma abbiamo di nuovo un inverso, che in questo caso si è vincolato a ribasso, esattamente come l'annuale. Sia l'annuale che il semestrale sono ribassisti di inverso, ovvero rialzisti per i prezzi di bitcoin. Per cui, se anche da qua vuole partire un nuovo TP3, d'accordo? Io lo segno, è per ora, ma abbiamo bisogno di confermi in termini di tempo, swing, tutto quello che volete. In realtà, a livello di swing qualche cosa ce l'abbiamo già, perché abbiamo violato con il candelone rosso questo, questo swing inverso a 10.832 dollari, quindi violatissimo a ribasso, perché siamo andati a 10.559, quasi 300 punti di sotto appunto il nostro swing 300 dollari. Possiamo dire che è molto probabile che da qui sia per partire un movimento perlomeno lateral ribassista, ovvero rialzista di inverso, ma ribassista come prezzi di bitcoin, che per dar vita a un nuovo TP3 inverso, ecco che mancava la I, avrà bisogno perlomeno di un settimanale lateral ribassista prima di potersi vincolare di nuovo a ribasso di inverso, ovvero a rialzo di prezzi di bitcoin. Ritorniamo al grafico più comodo, ok? Così vi racconto tutto, più nel dettaglio. Cosa può succedere da ora in avanti? Può succedere questo, che si tenti di provare a scendere sotto questo minimo, a 10.559 ma dovremmo almeno vedere la candela di umani perché è molto probabile che sia un inside, ovvero che dia incertezza, ovvero che sia all'interno del range tra 12.100 e i 10.559 e in base a quello che poi piano piano si farà potremmo o avere una rottura di questo minimo o una lateralizzazione all'interno di questo range, ovvero come vi dicevo all'interno del range di questa candela rossa tra i 12.100 e i 10.559 dollari e dopo una settimana eventualmente si potrebbe tornare persino a salire, ma lo dovremmo vedere con divergenze, con un sacco di altre cose, ok? Perché vi dico ciò? Perché per partire un t più 3 inverso bisogna semplicemente di un sottociclo di due gradi inferiori a rialzo. Se parliamo di inverso sarebbe a ribasso di indice, per cui ci basta rimanere sotto questo massimo per minimo altre 5 candele, massimo altre 10 candele e poi se si ritornerà sopra questo massimo, come mi aspetto, perché è tutto già vincolato a rialzo, ok? Tutto il resto sarà salita, tutto il resto di questo t più 3 inverso che può durare dai 48 giorni in avanti, a partire da questo massimo qua, ok? Tenderà a spingere verso rialzo. Quindi come minimo proveremo a spingere per un t inverso settimanale che deve essere lateral rialzista, ovvero ribassista di. Se non riusciremo a spingere troppo verso il basso in questi giorni, a un certo punto ritorneremo a salire. Questo è quanto. D'accordo? Vi faccio anche notare alcune piccole finezze, d'accordo? Oltre a questa divergenza che fa un po' ridere la località troppo di lungo periodo ribassista, ok? Grazie mille, potrebbe dirmi in chi vede già adesso la candela. Ne abbiamo però una più divertente e più interessante, più piccolina e quindi con una valida valenza, ok? Che ci dice che da qui si può provare appunto a risalire, cosa che peraltro stiamo facendo perché abbiamo una scena lunghissima. Ok? Ricordatevi che siamo in Golden Cross, siamo parecchio distanti dalla Kumo e ci sono pochi elementi che facciano dire che si possa andare a scendere a parte i forti volumi che ci sono stati per salire, ma attenzione che possono non essere scomparsi. Per cui il tempo è importante, abbiamo bisogno come minimo di un T inverso, laterale rialzista, ed essendo rialzista l'inverso significa ribassista per Bitcoin e poi se si tornerà sopra questo massimo si continuerà ad aggiornare i massimi dei prezzi di Bitcoin. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata.